Bella a tutti ragazzi, benvenuti un'altra volta in questo bellissimo canale di Giuseppe Formica Fai da Te e oggi vi voglio spiegare un bellissimo progetto che mi è venuto in mente proprio stamattina mentre passeggiavo nel mio paesello, nel mio paesello sono passato nel mio solito abituale negozio dove io mi fornisco di alcune cose per fare tutti i progetti che avete quasi visto sono stati forniti, sono andato a fornirle in un negozio che mi costa quasi diciamo un euro diciamo un euro preciso mi costa, vado sempre a risparmio ovviamente e mi è venuta una bellissima idea, stavo passeggiando nel negozio lì che stavo dando occhiate per darmi una piccola idea come realizzare il progetto per oggi e mi è venuta una bellissima idea, ho trovato questo questo blocca un secondo preciso che lo devo andare a prendere questo chiudi pacco ovviamente è un semplice chiudi pacco come vedete si apre e un chiudi pacco come state vedendo aggancetto tac, ovviamente e mi è venuta un bellissimo una bellissima idea di realizzare questo semplice portachiavi non è nient'altro che un buco da 3 mm con un semplice anello per le chiavi ovviamente ovviamente voi il chiudi pacco lo potete mettere nella cintura potete agganciarlo nella borsa lo potete tenere anche in mano potete usare per il chiavi della macchina dello scooter del motorino di quello che voi ovviamente desiderate potete fare anche un regalo di compleanno di vostra ragazza è un regalo abbastanza carino è un semplice design realizzato su due piedi come potete vedere ve lo faccio rivedere si può anche aprire si può anche semplicemente chiudere ovviamente il video è stato abbastanza breve però era doloroso farvelo vedere l'ho fatto proprio manco due mesi fa ve lo sto direttamente passando a voi in condividendo con voi ovviamente se vi piace questo grandissimo video un mi piace è sempre cadito ovviamente i miei siti dei miei social network li trovate sempre ovviamente nella descrizione noi ci sentiamo al prossimo video e alla prossima idea che mi viene in questi bellissimi giorni ok? da Giuseppe Formiga fai da te è tutto bella raga!